Domini è un benestante, un commerciante, un padre di famiglia naturalmente, sposato, apparentemente felice, però anche lui ha le sue fragilità, il suo segreto, ha la nostra storia d'amore. Damiano, sta l'amore o non sta? È stata una storia d'amore bellissima, che come tutte le storie d'amore che non si risolvono, che non finiscono, rimangono cristallizzate nel tempo. Che sono poi le più belle storie d'amore, quelle che non si realizzano, cioè nel senso da un punto di vista drammaturgico raccontare una storia impossibile è la cosa più appassionante. Io come pugliese, per cui risento dentro la storia, insomma di Don Mimini ho conosciuto in vita mia. Tantissimi amici di mio padre, commercianti pugliesi, quelli che hanno appunto il figlio di fare l'affare, di fare il commercio, ma anche con uno sguardo fulminano una donna. Oh, modesto, respira, ventila, sennò fai la fine di suo marito. Mimella è un personaggio molto, molto forte, anche molto aspro, molto duro, a cui la vita ha insegnato ad essere molto fredda, però poi nasconde delle solitudini, delle tenerezze, ma molto nascoste. Credo nel destino, però non sempre il destino vuole realizzare quello che vogliamo noi. La grande storia d'amore sembra che arriva all'età giusta, ma poi ti accorgi che quella è una storia sbagliata perché ne arriva un'altra ancora più importante. Grazie.